Ciao a tutti, oggi un nuovo video, un video nuovo, mi sono segnato a tutti gli appena disegno il taccuino fashion di Camilla, volevo parlarvi un po' di una recensione di prodotti, di prodotti questa volta di Delidea, Delidea Marchio Biocosmetico, io fino adesso ho provato la crema viso purificante crema viso purificante che mi aprieta molto perché idrata davvero la pelle, non è troppo leggera, quindi l'ha idrata per bene e non è troppo oleosa o pastosa, quindi mi è piaciuto moltissimo, costo medio e reperività io la trovo da ticotà, comunque c'è anche il loro sito online, poi il sieroviso che sarebbe l'olio di ragam per il viso, mi è piaciuto moltissimo, io lo usavo soprattutto qui e tende veramente a sgonfiare la palpebra, quindi mi è piaciuto, io lo applicavo dove ho più segni dell'età, poi il contorno occhi, borse, occhiaie, quello che è colorato, dà l'effetto tipo correttore leggero, però non sgonfia, non rende, non ha un effetto proprio scosmetico, poi l'esfolente viso, l'esfolente viso esfolia molto bene la pelle però ha una profumazione troppo troppo forte per i miei gusti, l'esfolente corpo, solita cosa, ha una buona capacità scrabbante ma è troppo profumato, non dà più fastidio, la crema corpo, quella al mango, mi è piaciuto tantissimo, ha un buonissimo profumo, io la usavo per le dotazioni delle mani dei piedi, molto molto buono, e vi consiglio di acquistare dell'idea, ovviamente sì, perché ha un sacco di prodotti, ha un sacco di linee sia skin care, sia capelli, sia corpo, è molto molto fornita, anche una piccola linea di make up, perché sono BB cream e CC cream, voglio provare anche quelle, ve la consiglio, è facilmente reperibile, non dovete fare ordine online, la trovate da tigota, se non avete tigota fate l'ordine online, ma è veramente un'ottima marca dal punto di vista biologico, dal punto di vista dell'inci, dal punto di vista dermatologico per la pelle, perché io sono un soggetto allergico, e niente, fatemi sapere se innanzitutto sapevate l'esistenza dell'idea, se ne avete mai comprato, quali prodotti vi sono piaciuti oppure non avete rimenditori nelle vostre zone, e niente, questo è un video breve, perché non posso materialmente fare dei prodotti, perché alcuni li ho finiti e buttati, però fatemi sapere quale vi è piaciuto, se l'avete provato, o se siete intenzionati a acquistarli. Vi saluto, vi mando un grosso bacio, leggete l'info box, se è una cosa buona e giusta, lasciate un like, un commentino, che mi fa tanto piacere, e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!